cari amici di lg in the box nella puntata di oggi voglio parlarvi di lg optimus pro il nuovo smartphone di lg che sposa lavoro e divertimento lg optimus pro dispone di tastiera qwerty estesa a vista praticissima per consultare e scrivere le email e di sistema operativo android nella sua versione più recente che migliora l'esperienza d'uso e ottimizza l'impiego della memoria e delle applicazioni lg optimus pro è uno smartphone compatto maneggevole ed ergonomico grazie alla sua forma allungata e la cover in materiale soft touch rende la presa ancora più solida sulla parte frontale troviamo un ampio display multi touch da 2,8 pollici in modalità ritratto compatibile quindi con tutte le applicazioni android sul market e poi c'è la tastiera estesa con l'accesso diretto alla casella email e al calendario e con i tasti funzione per comporre simboli e numeri la tastiera è concentrata in poco spazio e il comfort di digitazione è garantito dalla forma convessa dei tasti usato per lavorare lg optimus pro offre la connettività 3g high speed e wifi la compatibilità con i protocolli email più diffusi e con i server exchange e il pratico software polaris viewer per visualizzare gli allegati word excel e powerpoint la batteria a lunga durata in dotazione consente di arrivare alla fine della giornata lavorativa senza problemi anche dopo diverse chiamate e con la sincronizzazione email sempre attiva sul market di android inoltre si trovano moltissime applicazioni per l'ufficio dalle news in tempo reale all'andamento del mercato azionario e le prestazioni sono di alto livello grazie al processore da 800 megahertz nel tempo libero lg optimus pro offre tutta la versatilità del sistema operativo android e delle applicazioni google come il gps e google maps navigator gmail youtube e google talk ma anche applicazioni social come facebook e twitter ha il browser internet la fotocamera da 3 megapixel riproduce video di vix e file mp3 lo spazio di archiviazione non è un problema visto che in confezione troverete una micro sd da 2 gb oltre al cavo dati usb e agli auricolari stereo lg optimus pro è lo smartphone ideale per avere sempre in tasca il proprio ufficio con in più tutta la libertà del mondo android sarà disponibile nella colorazione black in tutti i negozi di telefonia a un prezzo davvero conveniente cari amici di lg in the box anche per oggi abbiamo concluso vi do appuntamento a prestissimo nel mondo smart di lg alla prossima ciao